Amici miei bentornati anche oggi in un altro incredibile video su Fortnite Oggi siamo qui per andare a vedere in esclusiva un incredibile pacchetto Ma prima andiamo a vedere all'interno del negozio oggetti cosa abbiamo di nuovo Quali sono le novità? Re abissale, reattivo, stili selezionabili, wow Sempre inerente alla saga di Aquaman Ancora questo castello corallino è presente nella mappa Non ci vogliono mettere la mappa ufficiale del re degli abissi Ovvero Atlantide Ma io ancora la sto aspettando prima che finisce questa season Vi ricordo che la season termina il 27 agosto giovedì Quindi Fortnite ha ancora qualche settimanella per poterci stupire Ma come ogni giorno andiamo a fare il nostro regalone E ovviamente non possiamo non regalare questa skin Che comunque è davvero molto molto carina Soprattutto questo abbinamento di colori è il colpo di genio con questo bel marsupio giallo Se anche voi volete un regalo mi raccomando iscrivetevi subito al canale E attivate la campanellina delle notifiche Droppate subito un bel like furbetto E all'interno del supporto a un creatore inserite il mio codice R4SCO Andiamo a prendere il fortunato di oggi Che è esattamente questo ragazzo qui Che non è nient'altro che uno di voi che state vedendo questo video E ha eseguito tutti i passaggi Eccolo qui Continua andiamo a personalizzare il nostro regalo Mettiamo Mettiamo questo Oggi cambiamo Invio regali in corso E amici miei Tutti i regali sono stati consegnati Vamos GG E buon divertimento con questa nuova skin Quindi mi raccomando Se anche tu vuoi un regalo Iscriviti ora al canale E attiva la campanellina delle notifiche Droppa subito un bel mi piace E all'interno del negozio oggetti Amici miei Il codice più bello del centro Italia R4SCO All'interno del vostro supporto a un creatore Ma sono troppo curioso Sono davvero troppo curioso Ovviamente Che fai Te ne privi Come dice il nostro dio superiore Amici miei 3, 2, 1 Le costrago Si scioppa Vamos Re abissale Andiamo subito ad equipaggiarlo Con questo backpack Per carità Rodrigo ci sta bene Però lo vogliamo cambiare Visto che è così colorato Gli abbinerei un bel backpack Colorato Ovviamente Oh no 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 Questo cerchio di fuoco È incantevole Ok Assolutamente cambiamo questo piccone rosa Che non ci sta per niente Bene Vediamo I colori della skin È principalmente rosso Vorrei provare proprio un bel piccone Che non ho mai indossato Vediamo un po' questa robetta qui Oh Azzeccatissimo Rosso e celeste Esattamente come la skin Quasi Il nostro delta plano Ce l'abbiamo La nostra scia è randomatica Come piace a noi Amici miei Già siamo pronti Andiamo a selezionare Il singolo E 3, 2, 1 Le costrago Vamos Eh Guarda qui dove stiamo passando Con questa skin Non possiamo non scendere a castello corallino Ma io vi dico di no Per rispetto di Aquaman Andiamo a Parco Pacific Vamos Stanno sparando Da tutte le parti Lì c'è un tizio Ah ok Era una copia Bene Ok perché stanno anche Altre player che stanno sparando Alla nostra sinistra No stanno sparando proprio qua davanti Vediamo un po' E là E là Cucciolo Posa tutta quella robetta Che ci ho messo gli occhi io E adesso possiamo passare Alla fase d'attacco Si va subito a pushare Oh 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 Lui ha una macchina E non mi piacciono i tizzi Con le macchine Che solitamente ci investono Tanto lui sono sicuro Che scende E va a prendersi Quella robetta lì No bluff Non è sceso per niente Mio dio abbiamo spiegato Tutte le nostre granate Vieni qui Vieni qua Cosa fai Cosa sto facendo questo Esci dalla macchina E muori Oh Ehi la Gamberone Non ci provare Non ci provare A casa i polli A casa i polli Chicken go back In the house Parco Pacifico Solitamente nasconde Sempre qualche insidia Comunque amici miei Parlando della nuova season Che la vedremo Tra due settimane Poco più di due settimane A parte che Ovviamente Non vedo l'ora Di vedere come sarà Questa nuova season Anche perché si sta parlando Veramente Di una collaborazione Mega galattica Con la marvel Quindi magari L'introduzione Di tutte le skin Della marvel Della prima season Quindi stiamo parlando Di capital america L'abbiamo già visto Però Thor Hulk Insomma Tutti i personaggi Della prima serie Occhio Sto sentendo una macchinella Che sono due macchinelle Che puntano a noi Sono quelli che hanno fatto La gara Oh mio dio Questo è strascildato Non è che stanno Di Come ho fatto A prenderci No Non ci posso credere Non ci posso Credere Questo ha la Oh 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 Occhio che ci prende Ci frichilla Ok Questi sicuramente Stavano facendo La challenge Della gara Ehi la Fragolino Maledetto Eh Non possiamo nemmeno Far scoppiare la macchina Avevamo abbastanza Colpi d'assalto Però non so Dove è quel player Ci dobbiamo assolutamente Scildare Sta tornando Ma stanno tornando In due di nuovo Oh mio dio Non ho fatto nemmeno In tempo a fare I scildini Oh cavolo Un'altra macchina Di là Vediamo un po' Cerchiamo di sciagallare Vediamo un po' Se si fai Tra di loro C'è una ferrari Che viene inseguita Da un'auto blu E a questo punto Anch'io Mi interometterei All'interno Di questo bel inseguimento Occhio si stanno sparando Facciamola Scoppiare questa macchinina Buonanotte Fragolina Ok Lui ovviamente È blu Oh ma è anche un pazzo Che ha finito E mazzo Questo ragazzetto Vieni un po' Qui cucciolo Ha messo una jump Ok è jumpato via Vediamo se riusciamo a Oh 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 One hit Pulito come non mai Ma serve un po' Di carte igieniche Amico E occhio che arriva La tempesta Subito jump anche per noi E ce ne andiamo Belli puliti In da safe Insomma vi sto dicendo Molto probabilmente Vedremo davvero Una collab Grandissima Quindi anche all'interno Del pass battaglia Con tutte le skin Con tutti i personaggi Di marvel La prima serie di marvel Avengers Ovviamente Non sarebbe male Anche se per me Diciamo che comunque Sono un fan Della storyline Di fortnite Andarla a stravolgere Totalmente Non è che è un'ottima idea Secondo me Anche perché rovinano Tutto quello che hanno creato Fino adesso E quindi anche tutti i segreti Che ci sono attualmente All'interno della mappa Anche se poi effettivamente La storia del bunker Nessuno sa Come andrà a finire Nessuno sa Cosa si sono inventati Per questo bel bunkerino Io vedo un player Che saggiamente È scappato Perché davvero i predoni Sono infamissimi Guarda guarda Mi stanno killando Questi Guarda se devo morire Guarda se devo morire Con dei predoni Muori Morite schifosi Mi devo fare assolutamente Questi shieldini Nella speranza che loro Mi droppano Uno shieldone Ok stanno sparando Anche altri da borgo Ti pareva Eccolo qua il player Che avevamo sentito Maledetto No 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 Oh oh Se l'è presa proprio con noi Ci sta sparando di gusto Probabilmente C'è una pushare No Ah è rampino Occhio che non è male Allora questo player Vediamo dove è andato Ok Sembra se ne sia andato Però di qua Vediamo magari se troviamo Anche un bello shieldino Goliardico Solo uno Almeno andiamo a 100-100 Vamos di shieldin Shieldone Mamma mia Un altro Che benessere Ma che benessere Amici miei E tenetevi pronti Perché in ambito pacchetti Ne vedremo delle belle In quanto tornerà Il pacchetto Di Catwoman Che io mi sembra Di non aver shoppato Con tutto il suo set Esclusivo Quindi anche l'emote Che è davvero molto figa E tornerà anche Batman Con il suo stile aggiuntivo L'emote Insomma Tutti gli oggetti Sia di Batman Sia di Catwoman Faranno presto ritorno All'interno del negozio oggetti Nel mentre ci siamo presi Questa top 10 Goliardica Ma le news E le novità Non finiscono qui Perché sta per arrivare Un mega pacchettone Amici miei Con David Bucks Al suo interno Stiamo parlando esattamente Di questa Rider Che io già vi ho mostrato Nei precedenti video Anche perché la troviamo All'interno di una schermata Di caricamento Avrà ben due stili Ovviamente Oltre allo stile principale Più anche Tre backpack Quindi un backpack Più due stili Ci sarà anche Se non erro Un picconaggio Quindi Un pacchetto Bello completo E in più Come vi sto dicendo Ovviamente Al conseguimento Di alcune challenge Potremmo andare A sbloccare Dei V-Bucks Potremmo andare A ottenere Dei V-Bucks Totalmente gratis Ovviamente Il pacchetto Avrà un costo Che sarà Un minimo Tra un minimo Di 15 euro E un massimo Di 20 euro Ancora il prezzo Effettivo Non è stato rilasciato Però credo Che venga 15 euro Che comunque Non è affatto male Perché ci becchiamo Questa skin Piena di stili E piena di accessori E 1.500 V-Bucks Il momento Che lo shoppiamo Quindi secondo me Ci stai Ovviamente Lo vado a shoppare Perché secondo me È un'ottima offerta Quando mettono All'interno Dei pacchetti Dei V-Bucks Tipo come Gli starter pacchetti In ogni season Andiamo a vedere E inoltre Questo Amici miei Questo si shoppa Per forza Penso Per questo pacchetto Avrà un prezzo Di 2.000 V-Bucks Scusate Di 20 euro Perché è un bel pacchetto Molto molto ignorante Stiamo parlando Per il momento Molti leaguers Lo hanno intitolato Le leggende Ombra 2.0 Non si sa ancora Come si chiamerà Effettivamente Però il prezzo Si pensa Che sarà Di 20 euro Nel mentre Noi siamo arrivati In una golosissima Top 5 Siamo anche Nella zona sicura Quindi not bad So good Anzi E ora che stiamo parlando Dei pacchetti Quasi quasi Nella prossima season Fortnite potrebbe Veramente rilasciare Un bel pacchettin Della Marvel Con magari Delle skin Al seguito Non sarebbe Affatto male Anzi Io Come molti di voi Sono sicuro Che l'andranno A shoppare Se davvero Lo vanno a rilasciare Perché comunque Se ci mettono Iron Man Che fai Non te lo shoppi Assolutamente La skin di Iron Man La devo prendere Assolutamente Nel caso La vanno a inserire Occhio 35 goliardico Buono 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 Questo tizio Con la macchina Ha fatto la miglior cosa Che un tizio Poteva fare Prendere la macchina E portarla Fino a endgame Che è davvero Troppo P Intanto 4 player Alive Amici miei Ci credo L'avete droppato Subito un bel like Furbetto Per questa top 5 Conquistata Mi raccomando Il supporto a un creatore Ok Allora Lì ci sono Due player Che stanno fai dando Tanto devono Unire da noi Ok Uno È appena sceso Da quelle scale Laggiù Quindi siamo 4 Uno sono io Ok siamo totali Vediamo vediamo Come si comportano Io sto qui Non ho la minima Intenzione di avanzare Anche perché mi voglio Gustare la situazione Occhio Top 3 presa Ok Un tizio sta venendo In realtà nemmeno sta correndo Ok si sta correndo ora Vediamo se si scontrano Io spero che si vadano a scontrare Almeno sviscito Fino alla fine No Non ci posso credere Ha preso la macchina Pensavo l'avesse fatta esplodere Ok Questa non è una buona situazione Perché il tizio con la macchina Sta venendo proprio da noi Eccolo qua Guardate che ferme È fermo nella macchina Vabbè il più vicino di tutti insomma Ok Lui lo sta seguendo con gli occhi Noi ci dobbiamo muovere Guardate quello con la macchina Come si diverte Non gli frega niente Oh ma lui sta mirando a me Lui sa che siamo qui Non ci posso credere Il tizio con l'albero Sa che siamo qui Non è una buona cosa Questa qua Dove è andato? Vai con la macchina Vai vai con la macchina No dove vai? No Non devi venire qua Non devi venire qua Bravo Vai lì Vai lì Esatto Prendilo Prendilo Sia lì davanti Sia lì davanti Intanto mi muovo Me li guardo questi due che fightano Voglio proprio godermi questo momento Attenzione Ok Non è andato su Ha tipo giampato Vediamo 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 Probabilmente fight finale Io comunque un lanciarazzi furbetto Io lo lancio E ne lancio subito anche un altro Occhio 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 Perché non so se verrà ripagata la nostra Stra Oh ha anche l'arma di kit Questo Ok La situazione diventa seria Lui potrebbe essere ovunque Considerando che ha il rampino E l'arma di kit Quindi ci potrebbe far secchi in un secondo È proprio strafermo Ma dove diavolo è andato? Ma regà dai Abbiamo incontrato l'ultimo player Che è più viscito di noi A meno che lui non è là dentro Non ne ho idea di dove sia Sinceramente Ok Ok sì Oh mio dio mi ha pushato male Pazzo scatenato Noi scendiamo Mamma mia quanto l'ho vista brutta Ok Scendiamo ancora Altrimenti Oh oh Cavolo È sopra di noi Oh yeah brother Vamos In the chicken house Let's go Let's go Ah 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 Amici miei ci siamo portati a casa un game stellare L'ultimo stava sviscitando Ma gli abbiamo fatto capire chi era più viscito di lui Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante In riferimento al pacchetto Quello dei V-Bucks Ovviamente Che la data di uscita è prevista per questa settimana Quindi se volete Se vi piace Se avete visto magari le foto Le immagini E vi interessa Tenete presente Che il prezzo si aggirerà Come vi ho detto Dai 15 ai 20 euro Ma io penso Più 15 euro Quindi se lo volete shoppare Ora avete tutte le info A vostra disposizione Mi raccomando Come al solito Un bel like per questo video Se sei nuovo E ancora non ti sei iscritto Dopo questa Victory Royale Ti devi per forza iscrivervi a questo canale Quindi iscriviti E attiva la campanella delle notifiche E inserisci anche tu R4SCO All'interno del tuo supporto a un creatore Per ottenere skin O pass battaglia gratis Attenzione Perché è già previsto Un mega contest Per la prossima season In quanto vi andrò a regalare Ben 20 pass battaglia Completamente gratis Quindi inserisci anche tu Il mio supporto a un creatore All'interno del negozio oggetti Ora vi lascio Sopra il vostro schermo Due video Che sicuramente Ancora non avete visto Quindi cliccate sull'uno O cliccate sull'altro L'importante è che Dovunque andiate Distruggete il pulsante De mi piace Noi ci vediamo prestissimo Con tante altre novità E... L'estra All'interno del tuo supporto a un'altra novità